Lei non ha nessuna autorità qui. No! Che è successo? L'ha fatto lei questo? Niente affatto, sei stato tu. Io? Sì, ti sei estragnato dal loro tempo. Hai fatto il primo passo, Wesley. Il primo passo per dove? Per un altro piano di esistenza. Un altro modo di pensare. Non riesco a capire. Hai trovato un nuovo inizio per te stesso. Il primo passo per un viaggio che pochissimi umani compiranno mai. Ma chi è lei? Il viaggiatore. Era tanto tempo che aspettavo questo momento, Wesley. Ma allora tutte quelle cose che ho visto nella BAC, mio padre, e le cose che lui mi ha detto, era tutta opera sua. Io ti ho semplicemente aperto la porta. Tutto quello che hai vissuto veniva dalla tua mente, dal tuo spirito, se preferisci. Io speravo che tu aprissi la mente a nuove possibilità e tu l'hai fatto. Ti sei estragnato dal tempo, non capisci? Ti sei evoluto a un nuovo livello. Sei pronto per esplorare luoghi in cui il pensiero e l'energia si combinano in modi che non puoi neppure immaginare. E io sarò la tua guida. E io sarò la tua guida.